Il Comune di Napoli commemora Giuseppe Abbamonte, giurista italiano ed esperto di diritto amministrativo, scomparso a dicembre scorso all'età di 93 anni. Abbamonte è stato a lungo docente all'Università di Napoli Federico II dopo aver ricoperto la carica di magistrato e partecipato ad importanti processi di diritto amministrativo e costituzionale che si sono tenuti negli ultimi anni in Italia. La figura di Abbamonte, autore tra l'altro di alcuni tra i più importanti testi universitari sui quali si sono formate generazioni di studenti, è stata ricordata questa mattina in sala giunta dal sindaco Luigi De Magistris che ha consegnato alla famiglia la medaglia della città.